due anni di trattenute di lacrime per lo sport lo dico sempre da da tanto tempo lo sport non ci rende immuni dalle malattie ma ci aiuta a combatterle e questo è il messaggio che voglio sempre portare con me per dar coraggio agli altri e per essere portatore di qualcosa di sano io vi ringrazio carlo e rimarrà sempre nei miei cuori perché ho iniziato a vivere lo sport agonistico oggi grazie mille a tutti per la disponibilità e per quello che mi avete dimostrato grazie grazie veramente ringrazio tutti non so più cosa dire la mia squadra progetto vista triathlon sono sempre lì che mi incoraggiano sul gruppo in allenamento anche siamo distanti però vedo che mi incoraggiano sempre oggi ho gareggiato con degli altri amici dove vado ad allenarmi a nuoto è la piscina acqua ambiente di santurbano ringrazio alessandro il grazie cristian che mi hanno comunque invitato a venire con loro in compagnia oggi e quindi non sono da solo sono con un sacco di amici oggi grazie mille grazie a carle e grazie e viva il triathlon sempre